Il reso senza carta diventa sostenibile con l'e-commerce di poste italiane. Cresce il numero dei resi negli acquisti e-commerce che in Italia riguardano, come riportato dalla ricerca di EF Returns, il 20% degli acquisti del settore fashion. Poco rispetto ad esempio al 60% della Germania, ma comunque è un dato considerevole sia per quanto riguarda i costi logistici, visto che la spesa per il trasporto di un reso oscilla tra gli 8 e 12 euro, sia per l'impatto ambientale. Proprio per renderne più sostenibile la gestione, Poste Italiane, già dal 2021, offre il servizio Reverse Paperless, che nel caso di ritiro a domicilio, assegna al corriere il compito di fornire la lettera di vettura da applicare sul pacco. Se invece il pacco viene consegnato in ufficio postale o nel punto poste più vicino, il cliente deve solamente mostrare allo sportello il QR code ricevuto dal venditore. Una soluzione dunque che rende il reso semplice e veloce, ma soprattutto green, perché le etichette vengono stampate solo quando sono necessarie, permettendo così di risparmiare carta, tempo e risorse.